ciao sono il dottor max in questo video ti spiego quali sono i sintomi dell'ansia sociale l'ansia sociale nota anche come fobia sociale è un disturbo d'ansia caratterizzato dalla paura e dall'ansia intensa in situazioni sociali o performance in cui una persona può sentirsi giudicata o valutata dagli altri queste situazioni possono variare da persona a persona ma i sintomi comuni dell'ansia sociale includono paura intensa una paura intensa e persistente di essere giudicati o valutati negativamente dagli altri evitamento un desiderio un comportamento di evitare le situazioni sociali temute che può portare a un notevole disagio o interferire con la vita quotidiana autocritica e preoccupazione eccessiva autovalutazione negativa e preoccupazione eccessiva riguardo al proprio comportamento all'aspetto alle azioni nelle situazioni sociali timore del giudizio la paura del giudizio o della disapprovazione altrui può portare a sentimenti di vergogna umiliazione ansia anticipatoria un aumento dell'ansia e del disagio nelle settimane o nei giorni che precedono un evento sociale temuto sintomi fisici l'ansia sociale può causare una serie di sintomi fisici tra cui sudorazione eccessiva arrossamento del viso tremori battito cardiaco accelerato secchezza delle fauci nausea difficoltà nella respirazione e disturbi gastrointestinali difficoltà a parlare la persona può sperimentare difficoltà nel parlare come balbettare voce tremolante o incapacità di trovare le parole giuste durante le conversazioni auto isolamento a causa della paura delle situazioni sociali la persona può ritirarsi o isolarsi dagli altri limitando l'interazione sociale bassa l'ansia sociale può influenzare negativamente l'autostima e la fiducia in se stessi poiché la persona può percepirsi come socialmente inadeguata o indesiderabile prestazioni scolastiche o lavorative compromesse l'ansia sociale può influenzare negativamente le prestazioni a scuola o sul lavoro poiché può essere difficile concentrarsi o eseguire i compiti quando ci si sente osservati o giudicati problemi nelle relazioni l'ansia sociale può influire negativamente sulle relazioni personali poiché la persona può evitare attività sociali con amici e familiari autoconsapevolezza e auto osservazione costante la persona può sentirsi costantemente osservata o giudicata rendendo difficile il rilassamento nelle situazioni sociali l'ansia sociale può variare in gravità da lieve a grave e può influenzare diverse aree della vita quotidiana il trattamento dell'ansia sociale può includere la terapia cognitivo comportamentale cbt la terapia di esposizione la terapia farmacologica e l'apprendimento di tecniche di gestione dello stress se ritieni di avere sintomi di ansia sociale che interferiscono con la tua vita quotidiana è importante cercare il supporto di uno psicologo o di uno psichiatra specializzati nel trattamento dei disturbi d'ansia il trattamento può aiutarti a gestire i sintomi ea migliorare la tua qualità di vita grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e metti un mi piace a questo video che puoi commentare raccontando le tue esperienze offrendo un servizio utile alla comunità buon proseguimento ci vediamo alla prossima domanda esaminata